L'obesità infantile è un problema attuale, è presente anche nel nostro territorio. Infatti un bambino su quattro è in sovrappeso, significa che il suo peso è superiore al peso ideale in base all'altezza. Primo, avere un'alimentazione sana, equilibrata, variata, con almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, una ricca colazione e l'allattamento al seno fino ai 6 mesi. Secondo consiglio, fare attività fisica, che significa fare sport ma anche avere una vita attiva, quindi camminare, andare a scuola a piedi, fare le scale. Un bambino in una giornata dovrebbe muoversi almeno 3 ore al giorno al di sotto dei 6 anni e sopra i 6 anni almeno un'ora. Terzo consiglio, ridurre il tempo davanti al video, significa davanti alla televisione, al computer, ma anche al tablet, allo smartphone, al massimo a 2 ore e sotto i 2 anni questa attività non dovrebbe essere conosciuta. Quarto consiglio, stare all'aperto, cioè giocare, saltare, correre, stare con gli altri bambini. Quinto, le scuole che promuovono una sana alimentazione e attività fisica dentro e fuori la scuola sono scuole che hanno a cuore la salute dei propri bambini e fanno sì che i bambini crescano sani.